La nostra immagine è il primo biglietto da visita che diamo agli altri. Attraverso quello che diciamo di noi stessi, raccontiamo la nostra identità. Per questo, anche per l'impresa, è fondamentale scegliere il modo migliore per farsi conoscere. Intanto, bisogna scegliere gli strumenti giusti. Fotografie, musica e video ci aiutano a scrivere il nostro racconto. E il web, con le sue proprietà multimediali, consente alle imprese di raccontarsi in modo veloce, senza limiti di tempo o di spazio, ad un pubblico pressoché illimitato. Per costruire un sito internet con grande visibilità e sempre aggiornato, bisogna avere competenze tecniche o ricorrere all'aiuto di esperti. Oppure, si può scegliere una soluzione come quella di Il mio sito di impresa semplice di Telecom Italia. E tu, che azienda vorresti essere? Il mio sito consente di creare il proprio sito e di gestirlo in totale autonomia, senza le preoccupazioni legate a linguaggi di programmazione difficili da utilizzare e che richiedono l'intervento di un esperto. Hai l'opportunità di cambiare template e contenuti, di aggiornare info, contatti e galleri in ogni momento, con pochi e semplici passaggi. Potrai scegliere il sito più adatto a te e alle tue esigenze. Crea il tuo sito, vendi online con il modulo e-commerce o se hai tanti contenuti multimediali da pubblicare, sfrutta la potenza della foto e video gallery. Possiamo dar vita insieme ad una nuova idea di azienda, più innovativa e più sensibile e attenta alle tematiche ambientali e sociali.